La linea bianca, poi si può calciare, ok? La linea bianca, questa qui, ogni squadra attacca due porte, dipende due porte, per fare gol bisogna superare la linea bianca, poi posso calciare, ok? Non c'è il portiere, non c'è il portiere. Fuori, 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 dammi oltre, lo trovi fuori. Questa è cerную, la contraria è. E' pronto.